Maratona delle cattedrali e siamo alla terza edizione. Numeri e novità al centro della conferenza stampa tenutasi a Berletta nella suggestiva cornice di Palazzo della Marra. Ebbene, la maratona sarà promotrice della prima scuola di pacemaker in Italia, un progetto che partendo da gennaio formerà gli atleti, chiamati così a scandire consapevolmente il proprio passo evitando dolorosi strappi e raggiungendo gli obiettivi fissati in maniera salutare. Ma non solo. La gara ha sposato la causa di Agebeo e amici di Vincenzo Onlus per dare risalto al villaggio dell'accoglienza riservato ai bimbi colpiti da malattie onco-ematologiche e alle loro famiglie. Si è parlato inoltre dello studio Wals, ovvero di un integratore, pare, in grado di intervenire efficacemente sul calo fisico e prestazionale che gli atleti simbolicamente incontrano al trentesimo chilometro. Un evento quindi ambizioso e che ha conquistato ben quattro continenti. Quest'anno abbiamo superato già i mille iscritti, abbiamo ben 17 stati esteri che partecipano a questa edizione. Gli atleti vengono da quattro continenti, mancano gli australiani. L'anno prossimo ci impegniamo, vediamo se riusciamo a portare anche un australiano da queste parti. Ci sono ben atleti per valori superiori a un terzo che vengono da regioni fuori Puglia, quindi anche questo è un dato molto significativo. La maratona sta praticamente facendo da sola. L'anno scorso probabilmente il lavoro che abbiamo fatto comincia a produrre i suoi frutti. Abbiamo fatto promozione in Russia, a San Pietroburgo, abbiamo fatto promozione a Cracovia, siamo stati ad Amsterdam, siamo stati in Romania e i risultati probabilmente sono quelli che derivano da questo lavoro. Una gara podistica, quella calendarizzata per il prossimo 18 dicembre, che partendo dalla città della Freccia del Sud, Mennea, avrà come punto d'arrivo Giovinazzo per un percorso che, toccando Trani, Bisceglie e Molfetta, proporrà il passaggio dalle cinque cattedrali. Una maratona ricca di spunti di crescita economica, atletica e territoriale. Una maratona che sta diventando una classica nel circuito della Fidal, abilmente organizzato dalla Puglia Marathon di Giovinazzo. Si parte da Barletta per arrivare a Giovinazzo, un evento che non è solo di carattere sportivo, ma che investe l'intero territorio. È sicuramente un'occasione per fare anche marketing territoriale. Dal punto di vista agonistico, la partecipazione, oltre ad essere numerosa e qualitativamente interessante, ci auguriamo ovviamente che sia un atleta pugliese a poterla giudicarsela. Una terza edizione che vedrà inoltre la presenza degli Allers, pronti ad immortalare i momenti più spettacolari della gara, oltre che della detentrice del Guinness, Mariella Satta, che palleggerà per tutto il percorso con uno o due palloni da basket. Un'occasione perciò interessante per valorizzare il nostro territorio. Un'occasione per permettere a chi vi partecipa, a chi assisterà a questa competizione, permettere di conoscere il nostro territorio e il nostro patrimonio storico-artistico.